Benvenuto, benvenuto ad una nuova lezione di MasterExcel.it Oggi vediamo lo strumento subtotale, da non confondere con la formula subtotale Quando dico strumento, intendo che andiamo su dati e lo troviamo qua La prima cosa importante che devi sapere è che per applicarlo occorre ordinare il campo in cui la vuoi applicare Ovvero, in questo esempio possiamo eseguire o il subtotale per mesi oppure per venditori Io direi di fare per venditore, non occorre quindi per forza che sia in colonna A Ordiniamo dall'A alla Z, diciamo espandere la selezione, ordina, ecco fatto Non occorre neanche selezionare la colonna B in vero, possiamo posizionarci in una parte qualsiasi di questa tabella Andiamo sul subtotale E ci apre questa finestrella di dialogo di base, capisce, mesi Noi togliamo mesi, diciamo no, fallo per venditore, visto che l'ho anche appena ordinato Di solito si usa la somma di default E ci va benissimo, altrimenti abbiamo il conteggio, la media, massimo, minimo, prodotto, eccetera Praticamente sono le funzioni viste nella lezione precedente Però non diamo solo quantità, diamo anche a montare Ovviamente non può fare i calcoli per venditore Perché sono testi, idem per i mesi in questo caso Lasciamo queste opzioni così come sono Quindi mettiamo la spunta, sostituisci, subtotali correnti Non mettiamo la spunta a interruzione di pagina tra gruppi Non ci occorre E riepilogo sotto dati, lo teniamo, ok? Perfetto La prima cosa che noti è che qui abbiamo tre livelli In vero possiamo aggiungerne altri, ma lo vediamo dopo Il primo livello, doppio clic, ecco qua E il totale complessivo è quanto è stato venduto In questo caso sia in a montare sia in quantità In tutti i mesi e da tutti i venditori Come puoi notare ha utilizzato una funzione particolare Quale? La funzione 9 Quindi la somma, vista nel video precedente Che tiene in considerazione anche i valori nascosti Ok? Ora premiamo sul 2 Ecco qua Ora abbiamo il totale venduto da Giovanni Il totale venduto da Luca, da Mandalena, da Maria e da Matteo Sia in a montare sia in quantità Come selezionato in precedenza Livello 3 Eccolo qua Intanto non so se l'hai notato Ma praticamente ha creato queste righe Prima non c'erano Ecco qua Potevamo anche fare la media Per farlo Beh, ci posizioniamo qui Sub totale Togliamo somma E diciamo media Ok? Ecco qua Adesso, come hai notato Abbiamo applicato la media E basta Però magari a noi piacerebbe avere sia la media Sia la somma Ma come fare Ora che ho applicato la media Per esempio Potevo anche aver applicato un'altra funzione Rivado su sub totale Lascio tutto come Quindi venditore va bene A montare quantità va benissimo Metto la somma Che è l'altra funzione Che in questo caso vorrei aggiungere E tolgo la spunta qui A sostituisci i subtotali correnti Ok Ecco fatto Avrai notato che ci apre Un livello 4 Eccolo qua Andiamo a livello 1 Per vederli tutti Abbiamo il totale complessivo E la media complessiva Livello 2 E abbiamo tutte le medie Più il complessivi Quindi la media complessiva E il totale complessivo Livello 3 Abbiamo sia il totale Che la media di ciascun venditore Qui Più i complessivi Livello 4 Tutto il database Quindi in questo modo Puoi sia aggiungere un altro livello Che non è particolarmente importante Però l'importante è che Tu col subtotale Puoi aggiungere altre funzioni Proviamo ad aggiungerne anche un'altra Magari conteggio Ok Ecco Aggiunge un altro livello Aggiunge anche un'altra funzione E proviamo ad aggiungerne ancora un'altra Andiamo su subtotale Diamo massimo Ovviamente non dobbiamo mettere la spunta qui a sostituire i subtotali correnti Andiamo ok Un altro livello Un sesto livello Abbiamo i massimi Ovviamente possiamo aggiungere anche i minimi La deviazione standard Tutto quello che ci pare Ora per rimuovere tutti i subtotali Invece basta andare qui su subtotale E premiamo qua Rimuovi tutti Buf Via tutti Adesso prima di lasciarci Un ultimo piccolo trucco Andiamo su subtotale Diamo somma per esempio Sostituisci i subtotali correnti Ok Fatto Premiamo su livello 2 Questi sono i subtotali Quindi il totale di ciascun venditore In questo caso Probabilmente a noi ci interesserebbe Copiare questi dati E incollarli in una tabella a parte Se io li copio con il classico Control C Andiamo a vedere che succede Incolla Ecco qua Abbiamo dei problemi Perché Fammi tornare indietro Ci copia anche le celle nascoste Noi però vogliamo che vada A copiarci solo le celle visibili Quindi tutte queste Come fare Selezioniamo i nostri dati In questo caso questi Andiamo su home Trova e seleziona Vai In alcune versioni forse Vai A Oppure F5 Speciale Solo celle visibili Ok Adesso ha selezionato Tutte le celle visibili All'interno della selezione Operata in precedenza Da qui Control C Per copiare Ci spostiamo nel nostro foglio E incolliamo O come valori Oppure incolliamo normalmente Io preferirei come valori Poi magari selezioniamo Tutte queste tre Doppio clic E le allarga Ecco fatto Abbiamo finito Sia con la formula subtotale Sia con lo strumento subtotale So che questi due video Ti sono stati utili E spero di rivederti Sul mio sito MasterExcel.it Ci vediamo là Ciao Ciao